Potrebbe approdare martedì in aula la finanziaria regionale 2021 da 8,8 miliardi di euro. Oggi la Commissione Bilancio del Consiglio regionale ha approvato la legge di bilancio e la finanziaria dopo aver audito l'assessore alla programmazione Giuseppe Fasolino, l'assessore della Sanità Mario Niedu e il commissario dell'ATS Massimo Temussi. Stamattina invece la Commissione Consigliare Lavoro ha approvato a maggioranza con l'astensione dell'opposizione la legge finanziaria nella parte di sua competenza. Ad illustrarne il contenuto l'assessore del lavoro Alessandra Zedda, tra i punti toccati dall'esponente della Giunta Solinas, l'articolo 4 della finanziaria che prevede l'istituzione del Fondo Lavoro in Sardegna con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro. Si tratta di uno strumento nuovo, ha spiegato l'assessore Zedda, attraverso il quale intendiamo attivare sia le attività di protezione ai lavoratori in vista del possibile sblocco dei licenziamenti, sia quelle di rafforzamento del tessuto economico o nella crisi specifica delle realtà territoriali. Inoltre, ha rilevato l'assessore Zedda, il fondo potrà essere utile nel supporto ai programmi di sviluppo, ai contratti diretti tra imprese, in coerenza con le linee guida per la programmazione dei fondi comunitari. Per quanto riguarda l'articolo 5, invece, sono previsti interventi nella formazione, sostenere le nuove imprese, costituita nel secondo semestre 2019, risorse per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a indeterminato, incrementi del fondo resisto, misure per i settori colpiti dall'emergenza Covid. I commissari di minoranza, nel motivare l'astensione, hanno sostenuto che le parti della finanziaria in materia di lavoro hanno un contenuto politico e non tecnico e di conseguenza sono al di fuori dell'accordo raggiunto dalla conferenza dei capi gruppo, oltre che predisposte e senza il confronto con le parti sociali.